Innovazione e ricerca per il Paese. Dove siamo e perché siamo a questo punto così critico? Noi parliamo con Linda Lanzillotta, rappresentante di Api Terzo Polo. Siamo indietro, e ce lo dicono tutti gli indicatori europei di tutte le agenzie di rating dei sistemi Paese, e siamo indietro perché la nostra agenda pubblica non ha messo al centro, l'agenda politica non ha messo al centro le politiche per la modernizzazione, per l'innovazione e per la ricerca. Oggi c'è una crisi che è una crisi globale, una crisi europea, tutta l'Europa sta rallentando la crescita, ma noi andiamo peggio degli altri, e questo è dovuto al fatto che mentre noi spendevamo soldi per le pensioni, per il funzionamento delle burocrazie, per non fare liberalizzazione, gli altri invece ristrutturavano il sistema amministrativo e pubblico, riorganizzavano la spesa e destinavano pur con le politiche di contenimento della spesa pubblica risorse alla ricerca, all'innovazione, alla tecnologia, alla società dell'informazione, alle comunicazioni, è quello che ha fatto la Germania negli anni 2000, diciamo, e che oggi premia, per cui la forza relativa di alcuni Paesi è data da questo, da quello che noi non abbiamo fatto e che oggi paghiamo amaramente. È un problema di governo o è un problema di cultura nel Paese? È un problema di cultura del sistema politico e del fatto che un sistema politico che ha dominato con un bipolarismo di scontro reciproco questi 15 anni ha fatto sì che non prevalessero le forze capaci di dire la verità al Paese e di avere consenso su un'agenda di innovazione, di cambiamento, di riorganizzazione della società italiana, del mondo dell'impresa, dei mercati che dovevano essere più competitivi, dare spazio ai giovani, ai nuovi talenti, immettere nel nostro sistema nuove energie, è un sistema che si è chiuso, ha mantenuto corporazioni, mercati chiusi e che sta morendo di asfissia. Per cui o noi rompiamo questa gabbia, questo immobilismo che ha caratterizzato la società e l'economia italiana negli ultimi anni o non abbiamo futuro. Eppure da oltre un decennio abbiamo un ministero ad hoc che si occupa di innovazione. Cos'è che non ha funzionato in questo? Ma è stato un ministero marginale, l'innovazione deve essere una funzione, un obiettivo trasversale di tutte le politiche pubbliche. Non può essere competenza di un piccolo ufficio, nemmeno il più importante, di un dipartimento della Presidenza del Consiglio. Gli investimenti non ci sono stati, non sono stati fatti incentivi all'innovazione e alla ricerca da parte delle imprese. E nella pubblica amministrazione non c'è stato un processo di riorganizzazione che doveva essere, doveva vedere la leva dell'innovazione appunto come leva. Non il fatto di mettere qualche computer in più o fare un progetto pilota, ma riorganizzare la macchina. Riorganizzare la macchina intorno alla leva dell'innovazione significa rivoluzionarla perché si trasformano le relazioni gerarchiche, si trasformano la priorità delle funzioni e quindi i sistemi di potere all'interno delle burocrazie e degli apparati. Quindi bisognava avere la forza, la determinazione e ancora prima la visione di un grande progetto di cambiamento che non c'è stato. Quindi l'innovazione è stata una targa, qualche acquisto di beni o di servizi, ma non una grande trasformazione dell'intero sistema pubblico. L'Europa ha indicato un target continentale del 3% sul pil di investimento in ricerca e sviluppo, due terzi dei quali a carico del mondo d'impresa privato. Noi siamo ben al di sotto di quella soglia e dubito personalmente che vi sia una capacità di impresa di arrivare al 2%. Però questo vuol dire che l'innovazione guarda da un lato all'università e dall'altro deve guardare al mondo di impresa. Quali sono le imprese capaci di spostare ingenti capitali nell'innovazione e ricerca? Beh, sicuramente noi risentiamo da questo punto di vista della crisi delle grandi imprese in Italia e del fatto che noi siamo caratterizzati da un tessuto di piccole e medie imprese, spesso familiari, spesso poco capitalizzate, che fanno fatica ad investire in ricerca e anche in innovazione nel processo organizzativo. C'è anche un fatto culturale, talvolta nella piccola impresa inserire innovazione fa temere al padrone dell'impresa di perdere il controllo della sua azienda e quindi c'è una resistenza anche all'apertura. Credo che ci vogliano politiche che incentivino fiscalmente intanto l'aggregazione delle imprese e poi l'introduzione di innovazione tecnologica e gli investimenti in ricerca. Però noi sappiamo che proprio per questo la ricerca pubblica deve mantenere una sua centralità e che quindi la spesa pubblica deve avere delle priorità che sono diverse da quelle attuali, altrimenti non ci sarà spazio. Se noi sprechiamo tutti i soldi in pensioni e stipendi per le politiche di investimento nel settore della ricerca non ce ne saranno perché noi abbiamo un orizzonte di riduzione drammatica della spesa pubblica per mantenere il pareggio di bilancio ma anche per ridurre il debito. Quindi dobbiamo fare delle scelte e le scelte per il futuro sono proprio sul versante della ricerca e dell'innovazione. Lei parla di futuro, da poche ore ha giurato un nuovo governo. Ci sono delle aspettative in direzione dell'innovazione e della ricerca che è una gamba a cui nessuno può rinunciare pensando al futuro? Io credo che questo governo è intanto un elemento di grande discontinuità culturale rispetto a una politica populista e inconcludente e introduce una politica autorevole, credibile che punta a un progetto di cambiamento, a dare una nuova visione, un nuovo orizzonte, un orizzonte europeo. Cioè è un governo i cui componenti hanno fatto dell'Europa la loro identità culturale e questo per noi è fondamentale perché siamo stati attraversati da spiriti anti-europei che ci hanno allontanato da quello che è necessariamente la nostra ancora di salvataggio. Naturalmente dipenderà molto dalla stabilità e dalla forza che la politica darà a questo governo. Quindi io mi auguro che non prevalgano miopi, giochetti di interessi, di bottega dei singoli partiti ma che si dia un orizzonte che vada alla fine della legislatura, che ridia dignità all'Italia sulla scena internazionale che è la condizione anche per le nostre imprese per viaggiare e essere credibili sul mercato internazionale. Naturalmente proprio questa cultura europea che i componenti del governo nella loro prevalenza hanno implica che c'è piena consapevolezza della necessità di mettere al centro per le politiche della crescita l'innovazione e la ricerca. Quindi io confido che questo sarà uno degli assi che seguirà il governo e d'altronde mi sembra che dalle prime battute fatte anche da questo super ministro delle infrastrutture e dello sviluppo questa possa essere la direzione di marcia. Quindi ce l'auguriamo tutti perché siamo in una situazione di grande difficoltà ma l'inizio, il nuovo inizio che ci dà questo governo ci deve dare anche grandi speranze. Possiamo farcela o dobbiamo farcela? Dobbiamo e possiamo. Ringrazio l'onorevole Linda Lanzillotta, api terzo polo. Grazie. Grazie, arrivederci.